Spunti e spuntini, l'argomento di questo spazio è la psicosintesi e in particolare Arezzo Psicosintesi, questa associazione senza fini di lucro, dobbiamo specificare, la quale si preoccupa di far conoscere la psicosintesi come metodo di lavoro concreto per la conoscenza, la crescita e la trasformazione personale. Ne parliamo insieme con il professor Marco Montanari, filosofo e psicosintetista, grazie professore per essere qui con noi. Innanzitutto la psicosintesi, abbiamo detto così, abbiamo dato una definizione piuttosto generale, che cos'è esattamente? La psicosintesi è un metodo di lavoro su se stessi che può essere applicato in molti contesti diversi. Quando parlo di metodo intendo qualcosa di molto simile a quello che avviene per la cura del corpo. Noi spesso sentiamo di aver bisogno di avere un corpo sano e di buona costituzione, che ha bisogno di esercizio e ci affidiamo ad un metodo che può essere un metodo fisico, un metodo alimentare per tenerlo nelle migliori condizioni possibili. La stessa identica cosa accade anche per la nostra mente, per le nostre emozioni, per i pensieri che abbiamo e di conseguenza abbiamo bisogno di qualcosa che ci accompagni verso una maggiore salute. In certi casi sarà necessario un lavoro più profondo, che è quello che viene chiamato un lavoro di terapia e lì se ne incaricano degli specialisti, che sono gli psicoterapeuti e le psicoterapeute. Ma in molti casi abbiamo bisogno proprio di lavorare su un piano quasi di autoeducazione, quindi di poter aiutare noi stessi a stare bene. Per questo serve la psicosintesi, che è una psicologia, ma non soltanto, che copre una larga fascia di applicazione e può servire a molti di questi usi, data in Italia molti anni fa con delle radici interessanti anche proprio qui ad Arezzo. Professore, quindi ci sembra di capire che sia in fondo anche un modo per scoprire, per evidenziare anche le proprie potenzialità, magari potenzialità che uno possiede ma non sa di possedere. Assolutamente. Molto spesso noi siamo legati a un racconto di noi stessi e di noi stessi, che risale agli anni in cui eravamo bambini, al mondo in cui siamo cresciuti. Ci sono molte cose che assorbiamo e ci descriviamo in modi che magari non ci corrispondono più e magari alcune nostre qualità, alcune nostre risorse restano come coperte dalla vita che abbiamo fatto. E arriva un momento in cui dobbiamo magari aprire questo scrigno per andare a vedere cosa c'è dentro. Concretamente si tratta anche di andare a capire e provare più intensamente quali emozioni ci portano nella vita, da quali magari siamo sommersi, se ci sono dei pensieri che ci fanno da gabbia o da prigione dai quali non riusciamo ad uscire, con l'intenzione sempre di esprimere un'unicità che sentiamo di essere e anche di trovare un modo per abitare questo mondo che possiamo dire ci porti verso una maggiore felicità. Ecco, professore, il mondo di oggi sappiamo dà molti stimoli, molte sollecitazioni. Lei ha l'impressione che col passare del tempo, proprio di fronte a questi stimoli e sollecitazioni che non sono sempre positive, ci sia una diffusione sempre maggiore della psicosintesi? Mi viene da dire questo. Noi viviamo in un mondo estremamente complesso, molto più complesso dei mondi che ci hanno preceduti e di conseguenza ci nutriamo anche senza volerlo di molte cose che sono tossiche. Uno dei motivi per cui così spesso proviamo ansia, un senso quasi di impotenza, di frustrazione verso la vita e l'idea che il futuro sia una minaccia e non una promessa deriva proprio da questo sentirsi schiacciati. In questo senso la psicosintesi è una delle vie possibili per poter innanzitutto chiederci io come sto all'interno di questa vita che mi sta da ogni parte avvolgendo e a volte schiacciando, quali sono le risorse che ho a disposizione e anche che direzione voglio dare alla mia vita. C'è una volontà che mi muove oppure sono sballottato dagli eventi? Volendo dare una formula per tutto questo, sono soltanto quello che la vita ha fatto di me o posso fare qualcosa di ciò che la vita fino ad oggi ha fatto di me. La psicosintesi è un metodo, quindi è un insieme di esercizi, di tecniche, di mappe, quindi dei modi di interpretare la nostra psiche che può guidarci in questo viaggio, ovviamente non è l'unico, ce ne sono tanti validissimi e buoni. La psicosintesi credo che abbia un aspetto positivo, è molto agile, è leggera, sono mappe, strumenti, esercizi che si possono apprendere rapidamente. Professore, io conosco un po' la fisica quantistica, però è già più impegnativa mi sembra della psicosintesi. Ci sono alcuni passaggi che devono essere rielaborati diverse volte per arrivare in fondo anche ad avere una linea piuttosto coerente di pensiero. La psicosintesi lei mi dice che forse è più alla portata di tutti? La fisica quantistica è una rivoluzione che ancora il nostro mondo non ha assorbito a livello di pensiero comune, per quanto ogni strumento che usiamo si basi su quello, perché ha un formalismo matematico che per conoscere veramente è necessario, anche se ci sono dei grandissimi divulgatori che ci permettono di capire come abbia trasformato la nostra visione del mondo. Ogni psicologia, ogni modo di lavoro sulla psiche umana, quindi su chi siamo, è simile a quelli che un tempo erano chiamati esercizi spirituali, ovvero la nostra mente prende una forma, crescendo. L'educazione ricevuta in famiglia, l'educazione ricevuta a scuola, quello che sentiamo nel mondo, dà forma alla mente. Possiamo scegliere in un dato momento della vita di contribuire più attivamente a dare forma a quella mente che poi è quella che ci fa fare esperienza delle cose. Professore, la psicosintesi ha avuto una figura di spicco che tutti riconoscono, è quella del professore Roberto Assagioli. Tra l'altro il professore Assagioli è legato moltissimo al nostro territorio perché ha vissuto per molti anni a Villa Lanussa, quindi a Capolona, dove poi è deceduto nel 1974, se non sbaglio. Io ricordo di averlo visto di persona, conoscendo un po' bene le zone, camminare a bordo strada. Era una persona che aveva anche un aspetto molto particolare, cioè evidentemente dava l'impressione del vecchio saggio che camminava con la barba lunga, con il bastone appunto a bordo strada, ed aveva un atteggiamento, una condotta sempre particolarmente riservata, nel senso molto spesso lo vedevo taciturno mentre si incamminava lungo il percorso. Assagioli è stato determinante per la divulgazione e la conoscenza della psicosintesi. Assagioli è il fondatore del metodo che poi è stato chiamato da lui psicosintesi, che si nutre di molte cose. Prima di tutto della psicanalisi, lui fu il primo allievo italiano di Freud e poi più direttamente di Jung, si distaccò da Freud abbastanza rapidamente per un motivo che è cruciale nella visione della psicosintesi, ovvero Freud aveva esplorato, questo è un brano tratto da una sua lettera, le cantine dell'inconscio umano, quindi le cose più dolorose, quelle rimosse in un senso che ci fa male. Jung prima e Assagioli dopo, in maniera ancora più marcata, desideravano esplorare anche le soffitte e i tetti pieni di sole, ovvero anche tutto l'aspetto sano, evolutivo di crescita dell'essere umano. In questo senso la psicosintesi si è nutrita di molte cose diverse, non solo psicologia ma anche molta filosofia, molti saperi tradizionali, Assagioli parlava e conosceva varie lingue, aveva una forte conoscenza del mondo indiano, del mondo buddista, aveva un ramo ebraico nella famiglia e quindi conosceva molto bene anche la tradizione biblica e tutti questi saperi di tante epoche diverse concorrono a formare la psicosintesi, se posso con una battuta, perché si chiama così? Sappiamo tutti cos'è la psicanalisi o perlomeno l'abbiamo orecchiato, l'idea che in un certo momento può essere utile analizzare, vedere di come siamo fatti all'interno della nostra mente, ma prima o poi abbiamo bisogno poi, dopo aver fatto l'analisi, anche di una sintesi. Questo nella vita avviene anche spontaneamente, passano gli anni, viviamo e abbiamo bisogno di integrare, cioè trasformare in noi come il cibo diventa il nostro corpo, esperienze, delusioni, lutti, gioie, lavori che iniziano, lavori che finiscono, questo processo può essere aiutato. La psicosintesi è un metodo per aiutare questa integrazione della vita, esattamente come possiamo integrare il cibo per trasformarlo nel nostro corpo. Ecco, io le chiedo a questo punto di ricordare un po' quali sono i prossimi principali appuntamenti di Rezzo Psicosintesi. Uno è a stretto giro di posta. Rapidissimo! Allora, la nostra associazione da 22 anni lavora sul territorio e abbiamo moltissimi eventi gratuiti, aperti alla città, conferenze, presentazioni di libri, incontri. Uno di questi sarà questa sera alle 21 presso Spazio Seme, che ci ospita e sarà un incontro gratuito di circa due ore di introduzione della psicosintesi, per chi fosse curioso di capire meglio di che cosa si tratti. Abbiamo poi, tra i primi eventi che avverranno, il 21 marzo, con l'inizio della primavera e con la giornata mondiale della poesia, un incontro tenuto da Francesca Barbagli, psicologa, su come uscire dalle trappole della mente. Il giorno dopo, il 2 marzo, ci sarà invece un seminario di un giorno presso Spazio Seme con Chiara Guidi, che è un'attrice, counselor in psicosintesi, dal titolo Voce in Movimento. Sarà un lavoro sul corpo, che è spesso il grande dimenticato del lavoro interiore. Noi siamo anche questo corpo. E poi ci sono molte iniziative, vi invitiamo a andare a vedere sulla nostra pagina Facebook Arezzo Psicosintesi, oppure mandarci una mail a arezzopsicosintesi.gmail.com. Abbiamo anche un canale YouTube con tantissime conferenze e materiale liberamente disponibile. Questa è una traccia degli appuntamenti che poi ci diceva, professore, vengono anche così, anche inseriti di nuovi di volta in volta, perché molte persone poi hanno interesse magari raccogliete anche un'esigenza di coloro che vi seguono, no? Assolutamente. Anzi, siamo sempre aperti e chiediamo se le persone volessero inviarci delle richieste specifiche, dei temi che sentono importanti trattare, li accogliamo ben volentieri. Il nostro anno dura fino a giugno e fino a giugno ci saranno eventi di vario tipo. Probabilmente ci sarà anche qualche cosa che può interessare persone molto diverse, con porte di ingresso a se stesse diverse. Perché sappiamo che l'associazione è aperta a tutti, a coloro che vogliono intraprendere questo percorso o anche semplicemente fare conoscenza con la psicosintesi, in modo che diventi anche una disciplina. È giusto chiamarla disciplina? Sì. Sì, mi sembra un'ottima parola. Disciplina è in realtà quello che noi facciamo per darci forma, per cui per esempio la disciplina di uno sportivo disciplina da forma al suo corpo, ha una disciplina un monaco, c'è la disciplina alimentare, quindi sì, è una disciplina. È una disciplina. Noi ringraziamo il professor Marco Montanari, filosofo e psicosintetista, per aver parlato qui in studio insieme con noi dell'attività di Arezzo Psicosintesi e della psicosintesi, ricordando anche quelli che saranno i prossimi appuntamenti dell'associazione. La linea può tornare adesso alla regia per alcuni suggerimenti pubblicitari.